Sì, 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 quattro tanti anni. Cosa ti faccio? Un chiamo per essere 20, 21 sul cellulare, 20, 10, 20, 15 e mangiare in una casa che sempre mi poterlo fare. Che cosa mi perlonti? Vedere, capire per che papà ha la situazione di separarsi da casa per un certo tempo. Il pensiero che hai fatto.